Abbiamo provato, direi che i ragazzi hanno fatto veramente una buona partita, avremmo meritato ampiamente di vincere, abbiamo secondo tempo soprattutto dominato in lungo e in largo, ci è mancato il guizzo finale, però direi che la prestazione è stata veramente buona. Abbiamo trovato gli equilibri giusti, la squadra si è espressa bene, direi, non ci avessero annullato quel gol lì, secondo me regolarissimo, la partita l'avremmo vinta e anche grazie al loro portiere che ha sfornato 3-4 parate davvero importanti, però la squadra ha fatto bene, mi spiace soltanto per il gol preso che era evitabilissimo, però pazienza dai, siamo in crescendo e sono contento. È vero, è vero, quello che hai detto è giustissimo, la squadra gioca anche con carattere, con temperamento, ha capito finalmente come si deve giocare questo campionato, non soltanto di fino e direi che su un campo difficile come quello di oggi, perché non dimentichiamoci che qui ci ha perso il Gozzano, ci hanno perso squadre importanti, la squadra ha fornito secondo me un'ottima prestazione, sono molto soddisfatto della squadra. Poteva sfruttare meglio gli ultimi 30 metri, nell'uno contro uno magari provarci, però abbiamo fatto di tutto, ti dico onestamente ha fatto due grandi parate il loro portiere, quella su Hernan, su Molinari è stata veramente ottima, e poi forse potevamo allargare un attimino di più il gioco, per loro si difendevano in nove sempre dietro la linea della palla, non era semplice, però dai siamo sulla buona strada veramente.